Se volete tutti i veicoli del DLC, lo sento Drag Wars, come anche aggiunti di denaro, deluxo, proprietà, veicoli costosi sul vostro account di GTA Online, oppure account mondati, concorsa mondata per tutte le piattaforme a prezzo più basso d'Italia, in assoluto, potete contattare GTA Dopati su Instagram oppure su Telegram, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi, sono Zwillix ed in questo nuovo video vi mostrerò come sbloccare la nuova pistola segreta VM29 e la maschera di Babbo Fatale, che sono praticamente due ricompense per aver completato due eventi casuali usciti con questo piccolo aggiornamento natalizio 2022 su GTA Online. Cominciamo subito dall'evento casuale che vi permetterà di sbloccare questa nuova pistola, praticamente per sbloccare questa pistola ad un certo punto, in questo punto esatto della mappa, comparirà un evento casuale proprio sopra il tetto di questo edificio, esattamente tra le 8 di sera e le 6 del mattino in gioco in una qualsiasi tipologia di sessione per almeno 20 minuti online, quindi dovete stare in una sessione qualsiasi per almeno 20 minuti al suo interno. Purtroppo non ho capito se per questo evento casuale potete anche stare da solo in sessione per fare appunto sponare questo evento casuale, oppure se serve un altro amico. Fatto sta che spona appunto dopo 20 minuti, tra le 8 di sera e le 6 del mattino, e dovete stare almeno 400 metri attorno al palazzo dove sponerà questo evento casuale. In pratica spunterà un pallino rosso e noterete degli elicotteri della polizia sopra l'edificio, andate sopra l'edificio e uccidete tutti i nemici, molto molto semplice. In particolare quest'uomo in camicia e cravatta che una volta ucciso potrete raccogliere da lui la nuova pistola VM29 da terra. Magari non consiglio di stare sopra direttamente il tetto, comunque attaccati all'edificio, ma più che altro magari state tipo 50-70 metri lontano da questo edificio, magari che ne so, prendete un buzzard, state sopra uno dei tetti in zona come ho fatto io, senza mettere la visuale sull'edificio. Da lì aspettate e sperate, perché comunque se fissate l'edificio, oppure ci state addirittura sopra, e sperate che spawni, magari appunto in realtà l'evento casuale potrebbe non triggerarsi, proprio perché ci siete già sopra. Quindi tenete molto bene a mente questo fattore che vi ho appena detto. Io vi consiglio di stare attorno a uno dei tetti in zona e aspettare appunto il tempo che compaia questo evento casuale. L'evento casuale che ovviamente deciderà solo il gioco di triggerare. Noterete praticamente questi elicotteri della polizia e pallino rosso e da lì capite che appunto l'evento casuale è comparso. Una volta ucciso l'uomo, raccogliete la pistola e avrete fatto. È modificabile da Munation, anche se generalmente potrete mettere solo la skin e il silenziatore. Se volete sapere quanto è forte, per uccidere un giocatore con il giubbotto antiproiettile vi serviranno 12 colpi sul petto, oppure chiaramente uno in testa. Questo evento è ispirato ad una scena del film chiamato Trappola di Cristallo, in americano Die Hard, dove c'è John McClane, nome del protagonista, che salta in una scena del film sopra il Nakatomi Plaza, che appunto è l'ispirazione del Weasel Plaza di Los Santos. Infatti i tre nemici che potete incontrare in questo evento casuale hanno lo stesso aspetto dei tre antagonisti del film. In particolare il tizio in camicia e cravata che sarebbe Hans Gruber, antagonista principale del film. Dovete anche sapere che la pistola WM29 è ispirata alla Beretta 92FS, stessa pistola usata sempre da John McClane nel film Trappola di Cristallo. E questo ragazzi è, diciamo, essenzialmente il modo per sbloccare questa pistola. Completando questo evento sbloccherete anche la skin Buone Feste sulla pistola MK2. Riguardo l'evento del Grinch e su come sbloccare la maschera di Babbo Fatale, praticamente ad un certo punto sponerà casualmente nella mappa il Babbo Fatale, Gucci nel gioco americano che si ispira chiaramente al Grinch. Ci sarà questo Babbo Fatale che cercherà di rapinarvi snack e soldi e voi dovete ucciderlo prima che scappa. Uccidendolo sbloccherete la maschera di Babbo Fatale, vi riprenderete la vostra roba e otterrete un bonus di 25.000 dollari. Per farlo spawnare dovete stare in una qualsiasi tipologia di sessione per almeno 48 minuti con almeno un altro giocatore, fuori da qualsiasi edificio, con almeno un dollaro in contanti. Quindi fate in modo di avere qualche soldo anche tra i contanti facendo il prelievo dal sito. Mi raccomando ragazzi, i soldi in contanti sono importanti perché sennò il Grinch non spawna. Va bene anche un dollaro, basta che abbiate dei dollari sia in banca che in contanti, non importa la cifra, e soprattutto di avere almeno una persona nella vostra sessione. E dovete essere fuori da qualsiasi edificio, questo è importantissimo, dovete essere a giro per la mappa. Aspettate questi 48 minuti e dovrebbe spawnare casualmente quindi in sessione questo Grinch che cercherà di rapinarvi. Lo uccidete e a terra ci sarà questo pacco di regalo che basterà raccogliere per sbloccare la maschera segreta. Ovviamente il babbo fatale, o se preferite il Grinch, potrà sfuggirvi, quindi fate in modo di ucciderlo il prima possibile. Questo evento, a differenza dell'evento casuale ispirato al film Trappola di Cristallo, ci sarà solo nel periodo delle vacanze. La maschera sarà applicabile sia dal menu interazione che dal venditore di maschere di Vespucci nella categoria Maschere Festive. Inutile dire che ovviamente questo easter egg si ispira al film del Grinch, personaggio recitato dal dopatissimo Jim Carrey. Vesta, in un secondo, il terrore cresce a lievita dentro il tuo cuore. Quindi niente ragazzi, fatemi sapere le vostre tre commenti. Da Zetawillix è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video!